La storia conoscevano molto bene che solo le nostre 5 sensazioni diamo l'uomo, coloro, sonno, sonno, testo e toccano alla forma del nostro mondo reale. In questo modo, conoscono molto bene che la qualità formale della natura è una vera interpretazione di un tipo di contesto di binario digitale formato da essere uno e da essere non, o da essere zero. Quando è così, la quale qualità è conosciuta come un frutto conceptual. Nonostante, i scientifici credono in l'independenza di questa semplice apparenza, così che, dopo il giorno, affirmano che le 7 uniti del sistema internazionale di peso e misurazioni esistono in essenza. Massi, tempi, spazi, flui elettromagnetici, temperaturi, moli e intensità di l'uomo sono ragioni e algoritmi fruiti delle opinioni dell'uomo, sono un'uomo, che si appena esistono da un'uomo di digitali in il suo cibo dinamico, ma sono immaginati per esistere indipendente di questi eventi umani. opinioni. Anche un DVD può mostrare un mondo di azione e di vita, in un film, e i massi, i tempi, i spazi e altri, così rappresentati, è una semplice rappresentazione del file di ordini contenuti nel film. È necessario questa domanda. Qual è l'esistenza? Beh, l'esistenza è solo l'integrale sistema di tutte le ordini possibili, e le ordini esistono come file di ordini singoli binari, tra l'esistenza e l'esistenza. Questo è l'esistenza. Ma gli uomini di scienza creano il loro mente per credere in un'esistenza semplice rappresentata dal mente, mentre si deniano questa rappresentazione e dicono che queste forme esistono prima della rappresentazione umana, prima della stessa vita di un'esistenza semplice. Qual è l'esistenza? Qual è l'esistenza? L'esistenza, che dicono in questo modo, perché io credo fortemente in la scienza del fiction. E, come credo solo in the to be and in not to be, scattered in all the possible files of single orders that allow single and joined together interpretations, when a spirit can do it, I am strongly believed a man who believes in the fantasy, the fantasy of a science fiction, I am. The existence is like a movie represented by our mind, and the scientists believe in this science fiction, and I am judged, who believes in the science fiction. The truth is completely overturned. I do not believe in the fantasy of this world of the appearance, as in a movie. and I am judged, who believe in the fantasy. The scientists, who believe in the truth of this representation, as something who isn't a representation, but a truth in itself and so on. These certainly believe in the fantasy. And not he, but I am judged, who believe in the fantasy. The reality, the truth is completely overturned. I, in my study, extrapolate everything from these strings of binary orders. And I say that the whole universe is a simple personal representation. of the fantasy. And I am defined, scientist of the fantasy. The science starts from this simple representation of the world, studied in its representative context, and it is science. I start from the beginning, that is the mix between the to be and the not to be. And I am who studies fantasies, in the judgment of the science of today. Why? Well, only starting from what is general and true one, only starting in this way, it is possible to descend with certainty, with certainty in what is forming that general context. I do it. I do so. And I, so, extrapolate everything with certainty from the general number one, which mixes together the two oppositions formed by the to be and the not to be. The number one, which is a possibility of the mind, which is a possibility of the mind to define something in its unit. The number one is a power of the mind, which is able to use the numbers to understand. The number one is a power of the mind. A power of the mind of the mind in the il not to be, che nei numeri assumono la quantità di 10 ascoltati a 1 come il to be, e l'opposizione formato da 10 ascoltati a meno 1 in rappresentazione del not to be.